Ciao a tutti, seguite i nostri portavoci al Comune di Roma perché si sta discutendo il bilancio e il momento in cui fondamentalmente il Comune decide che cosa fare con i nostri soldi e noi lo dobbiamo sapere perché questo è il Comune nostro. Per cui seguite il lavoro dei portavoci del Movimento 5 Stelle, andate a ritrovare e seguite che cosa si sta facendo in questa città perché la stanno sbendendo. Ciao a tutti! Grazie a tutti!